e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuovissima serie oggi siamo in compagnia di Rikes ciao ragazzi scusatemi per la mia inattività in questi giorni, anzi in queste tre settimane ma sono stato occupato comunque oggi ho deciso di portare assieme a Rikes una nuova carriera dedicata alla serie Nazoom 11 e in particolare le prime due stagioni come squadra abbiamo scelto l'Elas Verona perché è quella che si avvicinava di più con le sue divise e i colori della Raymond e l'abbiamo messa in Premier League visto che ci sono più competizioni e più coppe ed è comunque un bel campionato con delle squadre molto forti e visto che faremo soltanto una stagione l'abbiamo messa anche in Champions League abbiamo levato purtroppo il Manchester United perché andava levata una squadra di un campionato e l'Università l'abbiamo messa in Europa League levando a Sonviglia la serie come avete già letto dal titolo l'abbiamo chiamata Extreme 11 e adesso vediamo subito la rosa e mettiamo i calciatori che ci interessano ovvero tutti questi qua sotto ma perché ha la faccia Shurer? ma perché? ma alcuni hanno la faccia, non lo so vabbè, un bug vabbè, adesso rimettiamo in squadra comunque allora ragazzi, volevamo prima mostrarvi i giocatori lui è Nathan lui è Mark lui è Axel Jack, Wallside Jude Bobby Kevin Darren Eric Scott Sean Aiden che è il fratello e infatti volevamo praticamente fare questa cosa che Sean è il difensore e Aiden è l'attaccante però la nostra idea è che quando giocherà uno l'altro non potrà giocare quindi sarà divertente comunque come cosa poi Arley Kane e Love che vabbè, il centrocampista quello che giocava alla Zeus che poi si è unito alla Raymond Adesso siamo tornando alla carriera e mettiamo un po' i calciatori necessariamente mettiamo Ivans in porta poi ragazzi questi giardelli la sverona la maggior parte verranno venduti ne terremo veramente pochi per esempio dieci così ma la maggior parte venderemo davvero tutti oppure quelli in prestito magari alcuni li mandiamo via li facciamo tornare alle proprie squadre comunque ragazzi per ora il difensore centrale sarà Frost abbiamo deciso di mettere questo qua come modulo quindi la punta rimarrà Axan non metteremo l'altro Frost ovvero Aiden ma metteremo sì ma la scena in panchina e metteremo Sean tra l'altro Sean Frost ha delle caratteristiche davvero alte cioè guardate però è 81 un gioco si è vagato non si sa perché anzi abbiamo deciso di cambiare modulo e di mettere un 4 3 1 2 l'unico problema è che ci manca un centrocampista e vabbè abbiamo messo Veloso che alla fine ci va anche stare era il capitano della Sverona potremmo mettere anche Schürer però io preferirei mettere Veloso visto che è il suo ruolo poi a Schürer in caso lo mettessimo si abbasserebbero tutte le caratteristiche di pochissimo se posso lo mettessi a centrocampo e ma Frost a centrocampo no a difensore centrale lasciamolo a difensore centrale inoltre ho messo dei giocatori sul mercato praticamente tutti quelli della Sverona tranne Veloso Faraoni e Lazovic perché due esterni li vorrete nere e altri invece li ho levati al prestito potete vedere qua quanti e poi basta vediamo un attimo sul vievaglio magari c'è un bel centrocampista così lo proviamo a mettere qua questo fa schifo via o lui via o nemmeno uno buono incredibile me lo schifo me la merdo allora ragazzi per quanto riguarda gli acquisti avevo pensato di comprare solamente o giocatori giapponesi oppure soltanto giocatori della Premier League non di fuori soprattutto riprendiamo giovani almeno non sono già giocatori di esperienza ma magari nemmeno giocatori che arrivano 80 un po' di meno tipo 77 così però ovviamente nemmeno servono tanti giocatori e in caso ne comprirei soltanto uno da mettere a centrocampo al posto di Veloso ma ho pochissimi soldi non so con tutte le vendite che di giocatori sul mercato ce ne stanno davvero tanti c'è tutta la squadra praticamente magari 10 milioni oppure 20 si potrebbero fare anche se valgono davvero poco questi giocatori ragazzi abbiamo venduto intanto due giocatori ovvero Rueg e Badu poi ci è arrivata anche un'offerta per per Lovato e uno scambio con Gianni Bruno che è un ragazzo che fa troppo ridere come nome però nemmeno malissimo vabbè comunque abbiamo deciso di accettare soltanto per il nome ovviamente adesso ragazzi giocheremo la prima partita del campionato dopo vi faremo vedere tutti i giocatori venduti alla fine del mercato comunque iniziamo con la simulazione e poi entreremo in campo questa qua comunque è la rosa ottimo Swift dentro Dragonfly no vai chi ha segnato ah Eagle Eric segna il primo gol di questa carriera assist di Dragonfly Eric Early niente veloso Sharp illusione ottica ancora Sharp dentro verso Kevin Adam Lata a voler appoggiare ottimo Sharp 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 doppio assist di Dragonfly grande Dragonfly gol di Sharp è la sua esultanza è la sua esultanza è lui i occhialetti è lui col sinistro vai cross ma è rost manda blog trago fai ancora verso l'oro v dentro filtrante per buona freddo 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 no 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 freddo l2 assist dal fai 3 0 a fine primo tempo per ogni anno fuori il gioco però no no out 3 contro 2 no ma mi ha cambiato il giocatore da solo e vabbè da 1 non è aperto arriva il momento del cambio quello più importante fuori un fratello sbagliato dentro un altro e in difesa però che ci mettiamo beh Kevin non può uscire perché è migliore in campo davvero fuori axel dentro shooter e Hulk verso Wool vaffanculo no 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 io anzo no non ci credo sul primo pallo no finisce così ragazzi queste sono le statistiche oddio noi solamente 3 tiri pure se ci hanno andato un gole però per quanto riguarda i diri potevamo fare molto di più vabbè adesso facciamo una bella intervista la prima il pareggio la soddisfa? no un pareggio nella fine del mondo però dai allora è stato un match difficile ma in realtà manco tanto però vabbè ma pensavo solo da nostre rossi cosa ha pensato al gol del pareggio però in realtà è un risultato giusto sì perché alla fine hanno fatto molti più tiri molti più tiri e noi abbiamo fatto poco più possesso valla nemmeno tantissimo sì di 7% mi pare partita contro il Crystal Palace adesso ma io prima vorrei fare un acquisto perché comunque non abbiamo comprato ancora nessuno ci servirebbe anche un bel centrocampista e tra l'altro la rosa se non comprassimo i giocatori rimarrebbero soltanto tre fuori rosa anzi uno che sarebbe Gianni Bruno e basta tra l'altro ragazzi non vi ho detto che della Sverona ho ottenuto Veloso non vi sarete accorti vabbè Faraoni Lazovic e Zaccagne io vorrei comprare comunque Kamavinga comunque è molto buono c'è a 7 anni e 76 i soldi ce l'abbiamo perché ho venduto un bel po' di giocatori e li ho fatti infatti sono a 35 milioni allora proviamo anche uno scambio ma non so che chi dargli sinceramente da mesi sarebbe buono si dai ma sono anzi danzi vediamo un po' danzi è un centrocampista sostituire un danzi più 12 milioni vediamo un po' vuoi con buono con la clausola 17 e 6 13% va bene ho preso così vai ruolo squadra facciamo un bel turnover si potrebbe accettare infatti ok poi durata il contratto 3 anni così clausola no vediamo un po' lo stipendio penso che 20 mila abbastino 20 mila dovrebbe accettare lo prende 5 mila infatti allora ragazzi c'è una brutta notizia purtroppo Gianni e Bruno non verrà perchè Lovato non ha trovato l'accordo con la squadra che gli aveva proposto di venire quindi niente ho deciso di puntare su un altro sterno ovvero lui poi vorrei comprare Hean Lucas che è buono come centrocampista ci può stare tanto sarà anche furiosa e Tanganga che non sono dei giocatori fortissimi ma perchè ragazzi vi ho detto che non volevo comprare dei giocatori forti ma giusto dei giocatori per completare la rosa niente di che e poi vorrei prendere anche dei giapponesi per rendere tutto più vicino alla serie scambio con Kani ci spero non rifiutino subito oh da mezzo da mezzo non ci serve da mezzo più 2 milioni perfetto ce lo stiamo prendendo adesso trattiamo promessa 3 anni 20 mila di stipendio e ci siamo presi anche lui ragazzi dobbiamo fare la formazione di riserva intanto mettiamo Schurer e Banyan poi Evans è fuori dentro la Chance e nuovi acquisti pure quindi metterò anche gli esterni visto che Budoui è un esterno destro allora ecco la formazione di riserva perché serviva visto che facciamo anche la Champions League e altre competizioni in Premier quindi per forza serve una formazione di riserva e niente la Chance importa poi ho adattato Budoui come si chiama comunque esterno destro c'è Zaccagni forse potrebbe anche cambiare Zaccagni però lo possiamo pure lasciare Faraoni e Kane non saprei chi mettere però per ora ho messo Faraoni e ho levato anche Evans dalla banchina purtroppo tanto c'è la Chance in porta spero non si faccia niente ci servono giocatori furirosa quindi prenderemo Tanganga Hean e Lukash e poi penso che prenderemo più o meno tre giapponesi così quelli che ci ispirano ho detto clausola nota inizia trattativa 2.6.000 più Sedin è buono perché Sedin tanto andrebbe venduto però facciamo un milione così per risparmiare quella cosa del 5 perfetto dai andiamo a trattare ci sto perfetto ragazzi preso stipendio 20.500 e ruolo sporadico no ho sbagliato no sei scemo 43 mi sono sbagliato ma sono dei grandi solo perché non andava bene la ribbi no non ci posso credere che culo che culo certo fa un po' meglio sto gioco comunque facciamo 10 milioni questo l'ho appena preso ti posso dare questo che l'ho appena preso vabbè andiamo da anzi andiamo a 10 milioni ma vattene a fanculo è onesto 10 milioni l'hanno rifiutato e chi lo vuole allora questo via ne prendiamo un altro ci prendiamo un buon giapponese giusto oppure vediamo qua se c'è qualcuno allora nei giocatori che ci ha suggerito l'osservatore c'è Petroneto ma che cosa non so il valore per quanto offriamo proviamo uno scambio con di Gaudio vabbè più sicuramente 7 milioni potrebbero essere anche i pochi proviamo però 7 milioni non accettato si non vale niente probabilmente ragazzi abbiamo controllato e è 78 e ha un valore di 30 milioni quindi c'è ottimo 7 milioni ottimo 30 mila vediamo così accetterà sicuramente infatti diamo un po' magari si potrebbe anche essere sbagliato io spero di no vediamo ha sbagliato offerte inviate vediamo ma che porca cazzo ma l'era 78 valore 5 milioni vabbè solo 2 milioni in più ci vuole teniamocelo così ormai vabbè ecco tutti i giapponesi che abbiamo messo nell'hub mercato e poi c'è Svamberg così Svamberg allora ragazzi in caso non avessi già detto ve ne fosse o non ve ne foste accorti io ho messo tutti i miei giocatori di 35 anni tutti quelli che ho creato così che non potessero crescere purtroppo però ragazzi si abbassa la roll infatti la banian era 78 e nemmeno un mese ci sono già 75 comunque questa sarà la formazione con cui affronteremo il crystal palace occhio bella è buona partiamo 4 contro 4 c'è subito pensavo fosse fosse ecco la bella ancio dentro pedro dentro mamma mia che botta una sera all'esordio pedro neto comunque ragazzi stiamo giocando queste due partite con delle squadre che non sono tra le big del campionato perché comunque dobbiamo vedere la squadra visto che il calciomercato non è ancora finito anzi stiamo a metà praticamente bel gol comunque di neto è un bel contropiede bellissimo lancio di jud poi axel e neto una bomba buona veloso ma no rigore si ce l'abbiamo per il 2 a 0 ci proviamo chi batterà devo battere io devi segnarlo fermo fermo e di chi cerchi all'ultimo mamma mia mamma mia mamma mia non ce la faccio che palle pure l'allenatore ecco ho sbagliato pure l'angolo però il calci piazza di sbagliare vabbè là perché l'ho cliccato per sbagliare non mi interessa nel frattempo che simula volevo scusarmi perché le capo non li so batte vediamo attenzione sharp sharp dietro veloso adesso swift natan di nuovo veloso che è lui dragonfly avrà fatto sicuramente un bel dragonfly crash crash no 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 eh niente è aperta subito occhio no bella palla alta dovremmo fare anche dei cambi ma la partita ormai è quasi finita pazzuawi mamma mia fuori di poco sharp chiudiamola chiudiamola no era buona ancora frosso appena frosso miracolo mamma mia occhio palla controllo vada ancora mamma mia fuori di poco spazza su spazza su sta per finire e andiamo pure a fare gol potremmo farcela se la metti dentro potrebbe prendere anche frosso vai no è buona Axel no è troppo lenta in mezzo vai no è rigore è rigore no punizione niente finisce così è finita ci accontentiamo della vittoria 2 a 1 allora prima di chiudere vi faccio vedere tutte le vendite così al volo intanto io spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse stato lasciate un mi piace noi vi ringraziamo la visione e ci vediamo in un prossimo video bella belli raga bella